In casa Pescara resta l'attesa per sapere se la ASL concederà al gruppo squadra Biancazzurro di poter effettuare sedute di allenamento collettive. Il Placet potrebbe arrivare nelle prossime ore e Grassadonia potrà finalmente provare schemi e meccanismi in vista del recupero con la Virtus Entella di martedì. E ci sarà da fare anche la conta per il tecnico Biancazzurro. Senza Seterma con un galano pronto, l'attacco sembra fatto, il Robben delle Puglie e Capone ai lati di Odgaard. In difesa c'è una grossa incognita legata a Frederik Sorensen. Il danese dopo Brescia aveva fatto i conti con un problema muscolare che lo ha limitato. Se non dovesse recuperare è pronto Gut. Scognamiglio al centro, Bellanova e Masciangelo sulle due corsie laterali sono certi di una maglia. I problemi sono invece a centrocampo, reparto falcidiato dal Covid. Come se ciò non bastasse, Memuschai è indisponibile per i postumi dell'operazione al ginocchio. Fernandez ha risolto il contratto e De Sena sta facendo i conti con un problema muscolare. E dunque è in dubbio. Gli arruolabili certi sono Valdifiori e Maestro. Anche il ritorno tra i disponibili di Macin sposta poco in ottica formazione titolare, un po' perché il guineano sarà in ritardo di condizioni rispetto ai compagni ed è difficile vederlo in campo dal primo minuto. E anche qualora si optasse per questa scelta rischiosa, un centrocampo con Macin, Valdifiori e Maestro sarebbe male assortito, troppo offensivo e con scarsa capacità di fare filtro. Rigoni e Tavanelli mancano da tempo per infortunio ma si aprono spiragli per il recupero del primo. L'ex Clivense potrebbe dare equilibrio e solidità al reparto per 45-60 minuti almeno. Insomma, non bastasse il focolaio Covid, le grane per Grassadogna non mancano. Anche perché la partita va vinta a ogni costo per mantenere intatte le speranze play-out e la partita con l'Entella dovrà anche preparare il Delfino alla battaglia del San Vito Marulla contro il Cosenza del primo maggio. Sull'altro fronte la Virtus Entella ripartirà dal neotecnico Gennaro Volpe che non dovrebbe modificare l'assetto principale della squadra, il 4-3-1-2, anche se in questi giorni sono stati provati anche altri moduli. Non è da escludere che perlomeno in l'Anchina vengono portati diversi ragazzi della primavera, allenati fino a poco tempo fa dallo stesso Volpe. Che a dispetto della classifica la partita non vada affatto sottovalutata, lo dicono i precedenti. Il Pescara ha vinto i primi tre confronti diretti, due nella stagione 14-15 e l'andata della stagione 15-16. Ma da allora, in particolare dal 12 dicembre 2015, 2-0 firmato Memushai La Padula, il Filo non ha più superato i Liguri, i quali hanno strappato quattro pareggi consecutivi per poi vincere gli ultimi due confronti, sempre a Chiavari, 3-0 a dicembre e 2-0 nel febbreo 2020, prima sconfitta della gestione Le Grottaglie. Un trend che martedì andrà assolutamente invertito.